eccoci di nuovo qua benissimo l'altra volta non l'avevo salvato e quindi ha dovuto rifar tutto da capo però dai sono arrivato fino lì poi ho riaperto e ho trovato questo questo salvataggio qui credo che sia il miglior al mondo eccoci qua il vecchiettino mi ha un po cosa ci dice questo mi ha detto di andare ok credo che adesso dobbiamo uscire eccoci di nuovo qui alla città di merda facciamo una corsetta da questo qua sembra le stesse cose per mangiare pistelli questo qua chi è? ah si io l'ho fattuto si si e qua dentro chi c'era? ah già qui c'era una bel dracca oh cosa starò guardando? no l'ho letto l'ho letto ieri ah quante volte lo rileggo? chiusciamo da questa roba? no fuori la pozzanghere mi facciano troppo le pozzanghere brutta centone cerchiamo un poca ma non si trovano? ma non si trovano? oddio innopri un poca come? che c'è qualcosa? un catterpillar? ahahahahahah vai a lottà 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 vai fu il mio sguardo azione cosa serve? dai azione schivalo è in lotta fummi sguardati bastardo vai uccidilo bravo 39 xp oh ecco io i servatici risaltano addosso dell'erba se li vuoi catturare va ci altrimenti fa un culo ok brutto centone nazistofoli bene questo episodio si chiamerà strada per nazistofoli voglio ecco vai un altro poca un altro catterpillar vai uccidilo e tocciamo lotta azione dato che fu fu un mio sguardo non serve a niente quanti catterpi dai vai muoviti lotta 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 ll si lo so che fa male è proprio forte che tirchi 26 un tempo si iniziava con i pokemon livello 100 portalo dal vecchino e catturano basta mi sono rotto dai po un telespalla bob rotta vai azione a cosa serve confusione o cacchio fa male ma no oddio adesso muoio me lo sento ma lotterai fino alla fine piuttosto guarda piuttosto che farti sopravvivere lotterai fino alla fine oddio basta sono finito vai a cagare oh cacchio che ci faccio qua vediamo qua se ancora i pokemon si ah c'è ancora ok usciamo da questa dove si esce oddio mi sono perso ah no sono in cameretta ok adesso niente cazzate eh questa che è la root 101 per nazistopol questo qui cos'è che va da dire un po' come muore si ok ho capito come oh siamo arrivati alla stufa andiamo al po' che po' che lava qui muoviti ah allora per il tempo bene si si prendila muoviti E non mi dai nessun regalino Che puttana Ruba Pokémon No Broglia Ma è la stessa cosa Addio Saliamo le scale mobili Dai Niente non vuole salire Ah vediamo magari se parlano Come quelle di Hogwarts No non parlano neanche Io esco Vediamo che cazzo da dire questa vecchia Sei amico Vuoi del film Andiamo Una pozione magica Ti farò vedere Wow Non bella la voce Ok tranquilla Non c'è un po' Che sei già Compra Pozione Antitutto Un miracolo Antituto Oh non ho soldi No no niente scontrino Poi fa vedere i draghi Ah questo che si Si dai stavate lo scontrino Si dai stavate lo scontrino Un'altra pozione Però ne prendiamo Quattro Si due grammi Si Si due scontrino Giusto Bravo Poi prendiamo Una sveglia No Ogni navolo Cura Cura poca Un pirata Si Si un grammi No niente scontrino Per questo No Oh cap No What Perché non la compra Quante ne vuoi Uno Se ne vuoi un grammi Non farti Come sai dai finanziari Sai che non ti faccio Lo scontrino Si Grazie Torno pure Se tu gli dici di no Allora non te la vendono Ah capito Bene Usciamo Esco Esco No Non me ne pentirò Vediamo un po' qua Così Prova Ci sei morto Va bene Vado via Non berla la goccia Si Ho capito E tu Non siamo razzisti No Per amore del cielo Mangiamola questa signora qua Se No che carino Ho capito Andiamo a vederla Non posso vedere la tv Ha il colno Voglio uscire Non posso uscire Ah ecco Mi mettono a due porte Che c'è Che c'è sto logo Io come passo qua Ma lì Ti va O pesa Sono bloccato Sono bloccato E come Che c'è Che c'è Che c'è Che c'è Passare Lì Che c'è Oh io Io bevo La pozione Po Puzione 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 Usa Non serve Non serve a niente Va bene Però me l'hai fatto Sare Ma vergogna Ti va E io come passo Signora Si deve Le fare Dare palle Ho capito Ma vaffa Oddio Adesso muoio Non basta Vai Lotta Dai vai Uccidilo E' proprio Gostardo Ecco Visto Che bravo Che sono Wow Che shout Ragazzi No Ma poi Sempre Gli stessi Ecco Così Di Piccoli Livello 6 Attenzione Ho capito Che Perdi Qua No Ti stavo Uri Ma io Voglio arrivare Io voglio andare Dietro Lai in fondo Voglio andare Tu curami il Pokemon Ho capito Ho capito Muoviti Mettilo a posto Ok si tornerò Bene il problema qui rimane Come arrivare Ah si può passare nell'acqua Non lo so Avevo Ah bello Io mi scerterlavo E' un po' tipo Dio Venere a cercare Quel dracone Pure le rime Fa Entri in questa casetta E tu? Sei Una città Formata Da sole Quattro case Me lo chiedo Anch'io Però Nazistopoli È una grandissima città Un Pokemon Corri Guardia Spec Che roba è Ha 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 Un Magistopoli In gioco Ok Dobbiamo andare a cercare Il Popolo Io ho capito Eh Ma io voglio cercarlo di qua Non rompermi la colla Senti Io ti ammazzo Va bene Contenti Te contenti Tutti Andiamo a cercare Quel bel dracone Ecco un po' Ci mancava Io scappo Univisa Muoviti Azione Voglio vedere Sveglia un po' Non serve Ok Usa E che cosa serve Non serve Niente Non serve a niente Adesso muori Posso dire Il Si rigenera Ma vai a cagare Mi vuole uccidere così Un animale proprio Ok Adesso troviamo Il E poi basta 40 punti Ma anche 100 Per Tutta cosa Poi Niente Ho paura Passare Nell'erba alta Ah Non ho Trattato niente Eh no No Ecco Un'altra Battaglia Ma il dracone Vuole perdere Pff Livello 5 Io ho livello 6 Morto E ammazzalo E cosa devi fare Bam Oh Che adesso Vai ammazzalo Pff Cosa vuoi fare Va Che ti ammazzi In un colpo Ti ho sfattuto Eh Ruba 300 Espadra Niente Ok Adesso salvo Non sa come si fa Ok Salva Sì 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 Sovriscriviamo Svegli la Ampicchia Ok Per oggi è tutto Ciao